Good morning Milano! Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti! Lunedì 24 giugno 2024, l'ultimo lunedì di quest'anno di Good Morning Milano. Lo dirò tutti i giorni adesso. Eh sì, siamo alla rush finale, alla corsa finale, allo sprint finale, l'ultima settimana di programmazione e poi ci spiace andiamo in vacanza, poi ci risentiamo a settembre. Come state invece voi che magari le vacanze dovete ancora aspettare per tanto? Insomma, cercheremo, sicuramente Cristian Radio cerca di farvi compagnia fino a quel giorno senza problemi. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Oggi è anche il primo lunedì di estate, l'avete visto? Siete contenti? Avete visto fuori i temperature intorno ai 28 gradi, leggera brezza, un sole altissimo, si sta benissimo, non uscite anzi nelle ore più calde della giornata. Ecco, tutto questo quest'anno non è esistito fino adesso. Cioè, continua a piovere, fuori continua a piovere, diluviare, temperature molto basse ancora, molto basse per il periodo in realtà, 17 gradi più o meno oggi in questo istante, anzi, insomma, questo è quanto. So che avreste voluto sentire tutt'altro da me. Quasi quasi ci manca lamentarci per il caldo, quasi quasi ci mancano appunto quei famosi servizi del telegiornale bere tanta acqua, frutta e non uscire nelle ore più calde della giornata. Ecco, e non è così. Non è così. Il primo lunedì di estate non è sicuramente un lunedì estivo. Sembra di stare più o meno che altro tra ottobre e novembre e chissà per quanti giorni ancora andrà avanti così. Settimana difficile da questo punto di vista. Speriamo invece che sia una settimana facile per la musica, per le notizie che vi leggiamo, per la compagnia, che soprattutto voi fate a noi tutte le mattine. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Iniziamo con la musica, anzi, mettiamoci un po' di estate addosso. Giovanotti con l'estate addosso, estate che ci piacerebbe tanto riuscire a vedere, ma niente, non si riesce in più minimamente a vedere la fine di questo tunnel di... E' bello che siamo andati avanti anni a dire che non ci sono più le mezza stagioni e quest'anno in realtà è nata una nuova stagione, proprio completamente, non è neanche una mezza stagione. Così, di botto, è arrivata questa continua pioggia, ma anche le temperature basse, appunto, dicevo, basse per la media. Dopo in realtà aver avuto dei giorni in cui i picchi di temperatura già stavano salendo, poi di nuovo giù... insomma, è veramente complicato. Tutti, sento in giro la gente praticamente, tutti con il raffreddore, tutti in mezzi malati, insomma, non è sicuramente facile. Come invece ci dice Alberto al 331-7853-555, con lui parla di difficoltà perché dice buongiorno Fabio, buongiorno Lisa e buongiorno Cristallini. Buona settimana a tutti. Sarà difficile riprogrammare il risveglio senza Good Morning Milano. È veramente duro, fino a venerdì noi ci siamo, quindi fino a venerdì poi non fasciatevi la testa prima del dovuto, non dire sacco se non c'è nel sacco, come diceva Trapattoni. Quindi non disperate al momento. Poi insomma, lunedì prossimo ci pensiamo, va bene? E ci penserò anch'io mentre magari starò ancora dormendo a quest'ora. Elisa, quando parliamo di questa cosa c'è un sorriso che gli va da un'orecchia all'altro, quando pensa che settimana prossima finalmente non dovrà più svegliarsi alle 5 del mattino. Quindi davvero, ma tanto ti sveglierai lo stesso, cara la mia Elisa. Sono sicuro, anzi lunedì ti telefono alle 5 e un quarto per dire tutto a posto, hai dormito bene? Che cosa ti faccio? Va bene, no dai. E insomma, giustamente anche Elisa, le sue meritate vacanze, noi siamo in onda praticamente dal 15 di settembre più o meno. Quindi insomma, davvero nove mesi lunghi di dirette. E finalmente, insomma, finiamo, ma vi assicuro che stiamo già lavorando per la nuova stagione. Quindi siamo già lì che stiamo già producendo e lavorando per la nuova stagione. Sperando che magari ora di settembre riusciremo finalmente a vedere anche un po' di sole, insomma un po' di caldo magari, così non è che chiediamo troppo. Temperature oggi che dicevo appunto abbastanza basse, dovrebbe arrivare a 21 gradi. Comunque con cielo coperto, piogge sia la mattina che la sera. Su Milano sono previste piogge sia la mattina che la sera, deboli, fino diciamo appunto modeste, anzi non definite modeste. Ogni giorno metto delle parole nuove costituitamente per definire le precipitazioni. Comunque modeste nella mattinata, poi assenti verso la metà del dopo pranzo, diciamo fino all'ora dell'aperitivo. e poi appena vi sedete a cenare, lì arriva invece la pioggia con consistenti basse però intorno alle 11 e poi dopo mezzanotte invece consistenti ma di alta intensità. Quindi questo è quanto ci si aspetta e non è che nei prossimi giorni vada meglio, soprattutto domani. Poi mercoledì e giovedì sembrerebbe, adesso veri lì danno sole, ieri davano pioggia, a sabato danno tutto, ad esempio, però sappiamo che l'attendibilità delle previsioni a lungo termine, ormai anche medio corto, diciamo a oltre 4 giorni è difficile ormai. Quindi rimaniamo fermi a oggi e domani per adesso, che quindi vuol dire pioggia, oggi e domani. Quindi se avete grigliate, feste aziendali, aperitivi all'aperto, ripensate un piano B che forse è la cosa migliore. Anche perché poi, lo sappiamo, c'è il traffico a complicare sempre le cose. È vero che le scuole sono finite, è vero che si è un po' più rilassati magari, però è vero che se piove molti non possono prendere la bicicletta, il motorino o quello che usano per girare. E quindi si va tutto ad intasare di più e quindi andiamo a sentire Luce Verde che ci racconta e ci dà la fotografia in tempo reale del traffico in questo istante sulla città di Milano, la città metropolitana e le vie di maggior percorrenza, appunto le strade di maggior percorrenza in Lombardia. E quindi Luce Verde a voi! E questa era Gail che augura una cosa non ai nostri traspettatori, non ai nostri ascoltatori, non è quello che vogliamo fare ai nostri ascoltatori, anzi prendo in prestito il Whatsapp che ha appena scritto Alberto perché Alberto vuole augurare buone vacanze agli amici Enrico e Silvio che stanno partendo ora per la villeggiatura estiva in Trentino. Quindi avete ascoltato bene il Luce Verde, il traffico, così sapete quale strada prendere per andare via senza problemi. Magari a quest'ora spero che non ci sia ancora traffico per andare fino in Trentino, nel senso è lunedì, non dovrebbe esserci troppo traffico per andare in quella direzione, speriamo. Non voglio gufarvela, quindi buone vacanze appunto a Enrico e Silvio, villeggiatura in Trentino. Se invece per queste vacanze andate dalle parti di Copenaghen ricordatevi che potete prendere le metropolitane di ATM. Così ve lo volevo dire. No, perché, leggiamo sulla Repubblica di oggi, il metro di Copenaghen, Parla Milanese, inaugurata la quarta linea che sarà gestita da ATM. In realtà sono state inaugurate le cinque stazioni aggiuntive della quarta linea che era già gestita da ATM. ATM gestisce la M1, la M2, la M3 e la M4 di Copenaghen. In oltre 40 chilometri, pensate, di servizio di metropolitana, interessante leggere in mezzo all'articolo dove elogia anche fin troppo, a volte veramente un po' troppo, anche meno a volte, elogia comunque le grandi capacità di ATM nel gestire. Ricordiamo oltre che Copenaghen anche Sallonico, quindi insomma un bel lavoro e sono anche contento che appunto ATM nel mondo, come dire, ma c'è una frase che insomma potrebbe fare un po' arrabbiare i milanesi perché dice In funzione dal 19 ottobre 2002, la metropolitana di Copenaghen, grazie a sofisticati sistemi di controllo e manutenzione, è completamente automatizzata, come la M5 e la M4 qua a Milano, ed effettua un servizio continuativo da lunedì alla domenica 24 ore su 24. Bene, quindi se volete i mezzi di tutto l'aggiorno andate a Copenaghen, questa è la soluzione che posso semplicemente offrirvi. Mahmood Ratatata, 7.37 minuti, Cristian Radio, Good One Milano, qui con un po' di giornali davanti, da cui leggiamo anche notizie importanti che arrivano un po' dal mondo e da Milano, perché? Perché si torna a parlare di Laria Salis sul credo della Sera Milano, apre un tema molto interessante, magari, insomma come dire sempre, le modalità non sono proprio quelle più consone, però che se ne parli forse finalmente, è un tema importante, in realtà se ne parla spesso, soprattutto qui a Good One Milano, di che cosa? Parliamo delle case sfitte, le case disabitate, le occupazioni di case popolari, qui ne parliamo spesso, e l'abbiamo parlato spesso anche in Focus Periferie in maniera molto sfaccettata, cioè facendo vedere che il problema è da tantissimi lati, non ha solo un lato, non è una moneta con due facce, c'è molto di più, è un credo scopio di tematiche che vanno affrontate in maniera molto molto più completa, diciamo, e sul credo della Sera Milano appunto c'è le parole che Laria Salis ha detto nei giorni scorsi, Laria Salis dice chi occupa case disabitate le toglie al racket, a Milano 12.000 alloggi sfitti, la neolettra riposata per AWS torna sul tema del diritto alla casa dopo le polemiche nei giorni scorsi, tutte e tutti dobbiamo avere un tetto sulla testa. La Salis dice chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket e ai palazzinari, questo è quello che appunto ha detto Laria Salis. Tema molto caldo appunto, abbiamo visto altruppo anche che un circolo di estrema destra in questi giorni ha fatto una foto sotto al cartello Monza in cui lei aveva fatto la foto quando era tornata a casa con scritto Monza non ti vuoli, Laria Salis Monza non ti vuole, insomma, quindi è un momento non semplice insomma per l'eurodeputata, sicuramente anche lei non fa niente perché questo momento sia semplice, non lo dico, però è interessante capire come questo tema appunto magari portato di nuovo la ribalta delle notizie in maniera un po' particolare però è un tema perché 12.000 alloggi sfitti questo è quello che dice Laria Salis, sappiamo che magari le cifre non sono proprio queste ma ballano nel senso che anche lì ricordiamo come la stessa Aller più di una volta ha dovuto rivedere queste stime anche MM ha dovuto rivedere un attimino le certe stime e capire al meglio e sapere che c'è un problema ma poi sappiamo benissimo che non tutti gli alloggi sfitti sono sfitti perché non assegnati sempre che sono degli alloggi che non possono essere assegnati, sempre che sono degli alloggi che non possono essere proprio abitati al momento perché hanno delle situazioni di ristrutturazione in programma, insomma il problema è sicuramente molto molto complesso sono contento però che se ne venga fuori e si venga a parlare appunto di questo problema questa volta è stata la Salis che ha detto questa cosa, bene, la prossima volta saranno magari qualche consigliere della maggioranza, qualche consigliere dell'opposizione perché su questo c'è sia maggioranza che opposizione e spesso e volentieri parlano del tema della casa il tema del diritto alla casa è un tema a Milano sempre più scottante non solo per quanto riguarda le case popolari, l'edilizia residenziale pubblica, quella definita ERP ma anche per chi vuole comprarsi casa nel senso che poi non è mai semplice comunque andiamo avanti anche con un po' di musica, anzi grazie ad Adriana che ci scrive al 3317853555 che scrive buongiorno Fabio, certo che Mahmood le azzecca tutte, ratatà così adesso anche questa sembra il nuovo successone che forse ci porteremo avanti per tutta l'estate quest'anno è arrivata tardi, l'estate meteorologicamente parlando, anzi non è ancora arrivata molto probabilmente ma anche i tormentoni stanno arrivando tardi mi sembra cioè questa qua secondo me ce la portiamo avanti quest'estate però è arrivata veramente a fine giugno e di solito arrivano ben prima un altro che sicuramente non delude mai invece è Gali Gali con Paprika e se come dice Adriana al 3317853555 e Mahmood le azzecca tutte diciamo che Gali non è sicuramente da meno e con questa Paprika ci sta facendo sognare in questo appunto estate che non arriva devo dire ogni volta perché finis spontaneo dire no in questo inizio di estate no non c'è in inizio d'estate c'è un continuo non so un enclave di autunno cioè nel senso non so cosa dirvi un appendice non lo so una cellula impazzita di ottobre c'è questo c'è non c'è l'estate ancora e come dicevo appunto anche nei prossimi giorni prossimi giorni che vedranno oggi e domani appunto col maltempo mercoledì dovrebbe migliorare proprio in tempo per goderci al meglio lo sciopero ATM perché mercoledì 26 giugno sciopero ATM metro e mezzi di superficie a rischio l'agitazione proclamata dai Cobas leggo da Repubblica Milano tra le richieste del sindacato anche quella di maggiore sicurezza per i lavoratori esposti ad atti aggressivi e questo è veramente un tema molto importante al netto del tema sicurezza della sicurezza percepita della sicurezza sì sicurezza no non è vero che ci sono i reati sono in diminuzione quindi non è vero che la sicurezza è così è vero ok potete dire quello che volete sta di fatto che però poi se io sono un lavoratore ATM e devo andare a lavorare vorrei lavorare tranquillo o meglio lo so che alcuni rischi ci sono sempre stati a stare in mezzo alla gente ma sembrerebbe che ultimamente questi rischi siano un po' troppo alti poi ripeto anche qui è solo un percepito? io lo spero che sia solo un percepito ma sta di fatto che sia anche solo percepito va comunque cambiato perché io sono andato a lavorare cioè il concetto è quello non posso pensare di andare a lavorare con l'ansia con le paure con il rischio appunto con una percezione di rischio così alta anche perché poi faccio male il mio lavoro quindi è una conseguenza ovvia nel senso che poi è difficile farlo bene nel proprio lavoro invece in ATM c'è tanta gente che lavora bene quindi è giusto e mi sembra sacco santa questa rivendicazione d'altra parte lo so sarà come al solito una rottura di scatole per noi cittadini ma cosa possiamo farci? cioè ragazzi l'ATM i dipendenti di ATM non è che hanno molte modalità per poter far sentire la loro propria voce e quindi in questo caso il sindacato Alcobas appunto continua a leggere da Repubblica Milano ha proclamato uno sciopero per i lavoratori dell'azienda trasporti di Milano per appunto mercoledì 26 giugno quindi fa due giorni tra i diversi motivi dell'agitazione appunto c'è la richiesta di riattivare su autobus e tram il distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri e la tutela di sicurezza ai lavoratori più esposti adatti e aggressivi anche con sistemi di protezione passivi sciopero previsto come al solito nelle varie fasce dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio sì quello che chiedono in poche parole è quello che una delle richieste è quello di ripristinare come erano i mezzi pubblici diciamo post-covid durante la prima fase del covid che non si poteva salire e scendere dalla porta davanti fondamentalmente questo in realtà comporta dei problemi però di sicurezza nel flusso di chissà le scene degli utenti del mezzo pubblico però diciamo che insomma forse una soluzione la si può trovare nel senso perché lo dicono se noi inibiamo la porta davanti facciamo in modo che la gente non salga uscita dalla porta davanti c'è un distanziamento maggiore tra chi è dietro come passeggero appunto e il guidatore in più credo sia anche una possibilità di via di fuga mi sembra eccessiva uscita con precedenza per appunto il conducente il lavoratore ATM queste le richieste dello sciopero che andrà in scena mercoledì 26 giugno dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio Loredana Bertè che cosa vuoi da me io niente Loredana anzi vogliamo che continui a fare musica così che ci faccia emozionare e ci piaccia grazie anzi Loredana Bertè grazie invece anche allo stadio di San Siro che ogni giorno ci dà tante notizie da poter utilizzare per riempire la nostra trasmissione quindi non abbiamo mai problemi a dare notizie perché c'è sempre qualcosa da dire sullo stadio di San Siro anche perché in questo weekend poco prima del weekend appunto c'è stato l'anticipazione del progetto WeBuild cioè ci sono trovati WeBuild le squadre si sono trovate e hanno detto ragazzi questa è l'idea idea che da quanto abbiamo capito è praticamente la stessa identica idea che hanno avuto migliaia di anni fa mi avrebbe da dire accetti magistretti tutti quegli architetti che abbiamo avuto qua ospiti nei vari anni diciamo dal 2021 in avanti più o meno ormai ok però va bene nel senso niente basta polemiche leggiamo da Corriere della Sera Milano Stadio San Siro appunto progetto WeBuild terzo anello da completare e posti VIP qua duplicati completare credo che voglia dire coprire nel senso ma i tempi sono stretti perché sappiamo come i tempi appunto sono il problema il cardine di tutta la questione sono i tempi cioè riuscire a fare i lavori mentre si giochi il campionato quindi non doverlo chiudere tutto lo stadio e soprattutto appunto entro pochi anni senza dover andare appunto alle calende greche il primo anello sarebbe abbattuto ricostruito con una doppia fila di skybox ricordo che il primo anello interno si può tranquillamente abbattere perché non è la struttura cioè non è il vincolo il vincolo è sul secondo anello struttura esterna cioè sulle rampe per intenderci ok quello è il vincolo capienza tra i 72.000 e i 74.000 così museo e ristorante e all'esterno e soprattutto nell'articolo poi c'è scritto bene perché all'esterno del gate 8 e 9 davanti al gate 8 e 9 8, 9 e 10 verrà realizzata una struttura di 9.000 metri quadrati che si connetterà allo stadio con delle passerelle il corpo esterno ospiterà il museo dell'Inter il museo del Milan bar, ristoranti e gli uffici delle squadre questo è quello quello che si dice quindi in realtà non dovrebbe esserci una grandissima costruzione ma non più di tanto quindi 8 e 9 e 10 che dovessi essere tra parentesi poi proprio allì più o meno dove c'è l'ingresso centrale della tribuna rossa più o meno quella parte lì questo è quello che hanno presentato appunto che ha presentato WeBuild Bebe Sala è felicissimo di questa presentazione ma ricordiamo che comunque il Milan sta ancora lavorando pensando e ragionando sull'area di San Donato su cui è già anche iniziato a fare delle piccole manovre di pulizia dell'area perché Marchiavalla Bonifica mi sembra un po' esagerato diciamo pulizia dell'area anche solo per capire bene come è fatta l'area e prendere le misure precise secondo me era comunque un attimino da sistemare e anche per far capire che comunque le intenzioni ci sono ancora di andare in quella direzione stessa cosa invece anche se magari sembrerebbe leggermente più indietro perché se ne parla un po' meno è un po' più discreto l'Inter in quello l'Inter ha Rozzano quindi ancora l'idea principale diciamo è ancora quella devo dire che questa proposta di WeBuild va un attimino a scompigliare le carte e magari farà magari ripensare un attimino le due squadre che potrebbero a questo punto acquistare San Siro questa è una delle opzioni e poi fare questa operazione proposta da WeBuild questo è quanto vedremo lo scopriremo solo vivendo e questa è la verità ricordiamoci che poi nel 2026 comunque si aprono le Olimpiadi e lì a San Siro l'inaugurazione viene fatta a San Siro Albert Wan Heart on Fire il Crystal History delle otto fino all'ultimo secondo l'abbiamo ascoltato è così quando parte il Crystal History so che ci facciamo un salto nel passato ed è quello il bello anche di Crystal Radio la musica che appunto vi facciamo ascoltare tutte le mattine qui in diretta grazie mille all'ufficio programmazione grazie a tutti voi che continuate a scrivere c'è la 331 78 535 5 5 tante appunto notizie che abbiamo letto sui giornali continuiamo a leggere anzi una bella notizia che ci ricorda anche di un luogo importante di Milano è proprio su Repubblica Milano perché da benedì il muro delle bambole quello in via di Amici se è così quel muro ha compiuto dieci anni ed è anche cambiato in questi anni appunto è cambiato anche in maniera abbastanza importante e anche per continuare a portare avanti il suo messaggio di violenza di condanna di condanna alla violenza contro le donne appunto leggo da Repubblica Milano violenza sulle donne il muro delle bambole di via di Amici cambia volto dopo i dieci anni ecco come e perché dentro viene spiegato come questo ormai diventato un prato verticale con le storie delle vittime e di un'emergenza senza fine quindi non solo bambole non più solo bambole ma anche tante tante storie così che appunto si possa raccontare meglio sul tema e anche se a questo punto fare un passaggio in più nel senso era all'inizio nato come un muro per abbattere il silenzio contro i femminicidi adesso quel silenzio per fortuna insomma diciamo che è stato abbattuto e quindi va avanti però il programma va avanti diciamo la missione di questo muro con anche delle installazioni di artiste che raccontano appunto quello che è il mondo della violenza contro le donne quello che sono le situazioni che vengono raccontate direttamente dalle voci delle vittime così che si possa abbattere sempre di più non più il muro del silenzio ma proprio andare a contrastare il fenomeno perché sappiamo che essere un fenomeno culturale soprattutto che va sradicato alla radice con che cosa l'educazione e anche il racconto la condivisione spesso quasi sempre anzi molto complicata e difficile da fare soprattutto da parte delle vittime che ovviamente hanno una difficoltà a volte nel condividere mi sembra anche normale certe situazioni ma che sono fondamentali soprattutto per noi maschietti per capire il tema e per capire che insomma dobbiamo veramente fare un cambio di passo nel nostro cervello nella nostra mente cioè che non vuol dire che siamo tutti violenti e tutti picchiere ma ovviamente no non è quello ma bisogna fare quel passaggio anzi soprattutto chi non è violento soprattutto chi non farebbe mai atti del genere deve riuscire a fare definitivamente quel passaggio culturale chiamatelo annientamento del patriarcato chiamatelo come volete che però è fondamentale che venga fatto soprattutto appunto dicevo da noi maschietti ma poi anche tutto un discorso invece di condivisione soprattutto tra donne per far capire quali sono i campanei d'allarme quali sono le possibilità quali sono le vie di uscita insomma un tema davvero complicato difficile ma che sono contento che si sta affrontando tutti insieme in maniera molto molto compatta soprattutto perché è questo che serve è come dicevo un tema completamente culturale e come e proprio culturalmente va affrontato quindi da una parte dobbiamo insegnare a noi maschi quello che è ad esempio la mascolinità tossica che è fondamentale da togliere di mezzo così da non diventare poi potenzialmente violenti o semplicemente anche potenzialmente insomma quello che si gira dall'altra parte perché poi è quello il problema mai girarsi dall'altra parte l'indifferenza a volte fa più vittime della violenza quindi mai essere indifferenti e questo era Falco con Der Commissar una delle grandi canzoni della storia che chissà che storia c'ha dietro beh magari lo può sapere chi è Ambrogio Curti ovviamente perché lui te lo racconta sempre quando dopo di 9.05 in senti questa oggi lunedì e per l'ultima volta perché poi appunto settimana lui va avanti tra parentesi ma poi glielo chiediamo perché questa settimana viene qua a trovarci in studio sono riuscito a convincerlo a venire in studio a trovarci quindi poi ci racconterà fino a quando andrà avanti che cosa senti questa oggi lunedì come dicevo e quindi sommario della settimana quali sono i temi della settimana di senti questa beh lo possiamo chiedere direttamente alla sua voce ad Ambrogio Curti che ci racconta un po' che cosa che cosa ci farà sentire che storie ci racconterà e quali saranno gli aneddoti che potremmo poi rivenderci con i nostri amici quando li incontriamo al bar ecco questa è la domanda che facciamo ad Ambrogio Curti e la sentiamo benissimo Ambrogio grazie mille ad Ambrogio Curti grazie per il suo sommario 905 ve l'ha detto dopo di noi Ambrogio Curti con senti questa video kill the radio stars e mi è andata male invece alla fine le radio stars sono ancora qua sempre tengono botta e lo tengono soprattutto su Crystal Radio quindi andiamo avanti con un po' di musica poi torniamo qui dopo una piccola pausa a raccontarvi un po' quello che succede e c'è anche Filippo Poletti ultimo appuntamento della stagione con Filippo Poletti e il suo buon lavoro appena dopo la piccola pausa che andiamo ad ascoltarci in questo momento prima di tutto ovviamente un po' di musica e non potevamo che andare in pausa con una grande musica quella degli 8-8-3 estate 80 ai bunker 44 estate 80 80 voglia però siamo veramente a dei livelli altissimi complimenti devo dire 80 voglia di era proprio una delle cose classiche delle summer hits di quegli anni che raccontano quegli anni lì cioè vabbè comunque estate 80 grazie ai bunker per aver fatto un pezzo che racconta l'estate in cui cioè non racconta che nel titolo ha l'estate in cui sono nato sì sono nato nell'estate del 1980 quindi eccomi qua comunque è lunedì ve l'ho detto oggi è lunedì lunedì 24 giugno primo lunedì d'estate ma soprattutto ultimo lunedì della nostra programmazione ma anche se è l'ultimo lunedì della nostra stagione 2023 2023 2024 di Good Morning Milano c'è comunque Roberto Poletti scusate Filippo Poletti sbagliato Filippo Poletti Roberto è un altro Filippo Poletti che ci dà il buon lavoro ci racconta appunto le notizie migliori Filippo Poletti che potete seguire su i LinkedIn Top Voice di LinkedIn uno dei giornalisti più seguiti e ascoltati su LinkedIn per poi per quanto riguarda il mondo del lavoro cioè lui racconta vi dà le notizie migliori vi dà il sentiment di quello che davvero è il mondo del lavoro soprattutto anche dal punto di vista di molti imprenditori che sanno fare bene il proprio lavoro e di alcune aziende che fanno tanto anche per i propri dipendenti comunque lascio la parola a lui perché anche oggi ha le tre parole del buon lavoro di oggi le lascio appunto quindi lascio la parola a Filippo Poletti Top Voice di LinkedIn buon lavoro Filippo buon lavoro a tutti puntata speciale oggi 24 giugno perché perché questa è l'ultima puntata della stagione 2023 2024 di buon lavoro e allora vediamo insieme come di consueto le tre parole chiave della settimana la prima parola chiave della settimana è campi estivi campi estivi gratis per i figli dei dipendenti dove accade accade i neni campi estivi gratis a Cesenatico o a Bardonecchia gratis in Ferrari salvo l'iscrizione di 20 euro pensate un po' i ragazzi sono accolti dalle 7.30 alle 20.30 fino al 31 luglio e infine gratis in Pirelli è finita la scuola benvenga l'attenzione ai figli dei collaboratori da parte appunto delle aziende passiamo alla seconda parola chiave della settimana la seconda parola è bilanciamento attenzione al primo posto dei desideri dei lavoratori c'è l'equilibrio vita lavoro al secondo posto c'è il buon clima di lavoro al terzo c'è lo stipendio chi lo dice lo dice una ricerca presentata da Rastad interessante il commento del CEO Marco Ceresa quello che notiamo ha detto il manager è il diffondersi di un'idea di azienda come prosecuzione ideale della propria vita privata molti candidati ha spiegato si preoccupano di avere un capo che ascolti ascolti ogni loro richiesta o collegone con i quali appunto tessere relazioni amicali equilibrio vita lavoro buon clima e stipendio ricetta molto semplice la terza e ultima parola chiave della settimana è risorse umane la concorrenza con che cosa si fa si fa con le risorse umane le sfide possono essere vinte solo da aziende capaci di rapporti di fiducia con il lavoratore chi l'ha detto lo ha detto Cristian Biasoni CEO di Chef Express Oggi i fattori che determinano il successo ha spiegato il manager sono due il capitale umano e la digitalizzazione ovviamente la tecnologia consente di liberare tempo alle risorse umane che possono focalizzarsi su compiti di maggior valore aggiunto dove per esempio nella relazione con i clienti quindi ricordiamoci la vera concorrenza sono le persone che poi fanno appunto i prodotti e i servizi delle aziende e allora cari amici buon buon lavoro a tutti arrivederci a settembre con la nuova serie di buon lavoro nel frattempo ricordatevi di scrivermi dove? su linkedin o linkedin ancora una volta buon 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 lavoro a tutti chiede lunatica alle 8 e 41 minuti oggi è anche il giorno in cui si può festeggiare la vittoria di musicultura sì questo importante festival musicale che c'è stato appunto ha visto la finale proprio in questo weekend festival pazzesco dove c'è stato praticamente chiunque quest'anno a suonare a musicultura 2024 di grandissimi grandissimi esponenti della musica c'è stata Nada c'è stata Avitabile tantissimi davvero c'è stata anche Serena Brancale che è passata è un festival che viene fatto a Macerata ok si chiama così musicultura perché ne stiamo parlando? beh perché ha vinto una che è passata anche da qui a Good Morning Milano ebbene sì l'edizione 2024 di musicultura è stata vinta da Anna Castiglia che è stata appunto ospite nostra qui ai nostri microfoni qualche mese fa poco prima di una data milanese del suo tour la Castiglia diciamo milanese d'adozione nel senso che a Milano ha ormai messo le sue attuali radici ma nel senso che si sa che le sue radici sono dall'altra parte lei è siciliana ma insomma qui ha comunque portato l'espressione della sua musica tanto da poterla poi affinare fino ad arrivare appunto prima a una partecipazione particolare ad X Factor ricordate non è mai stata è l'unica che non ha fatto X Factor che praticamente l'ha vinto come se l'avesse fatto cioè sempre nominata da chiunque nonostante lei non facesse parte dei concorrenti di X Factor perché non aveva passato le selezioni è andata avanti poi a prendere i concetti di Max Cazzee e adesso vincendo anche il musicultura 2024 la vinta con canzone e con la canzone Gali che andiamo ad ascoltarci proprio adesso Anna Castiglia Gali Anna Castiglia con Gali la vincitrice della 35esima edizione di musicultura 2024 Anna Castiglia appunto vincitrice anche del del premio come miglior testo assegnato dalla giuria universitaria composta dagli studenti degli atenei di Macerata e Camerino siamo contenti davvero complimenti ad Anna Castiglia dai lo sento leggermente anche un nostro successo avendo avuto qui ospite insomma quei dieci minuti in cui Good Morning Milano ha avuto ospite quella che poi sarebbe diventata la vincitrice di un festival così importante 35esima edizione tra parentesi un festival molto molto interessante da cui escono davvero grandi grandi artisti insomma una canzone l'avete dita abbastanza eclettica appunto lo ripete anche lei più di una volta complimenti ancora ad Anna Castiglia il meteo si sta aggiornando invece devo un attimo tornare sul meteo perché vi avevo detto che avrebbe un attimino dato respiro durante le ore del pranzo diciamo e poi sarebbe ripetita la pioggia nel pomeriggio non è così niente tra i guaggi piove tutto il giorno pioggia debole o modesta dipende dipende da che colonna leggete nel senso a sinistra ti scrivono ti scrivono debole a destra ti scrivono esigue modeste qualsiasi aggettivo a me c'è un ai che trova sinonimi e contrari e metti sinonimi così per cercare di far sì che sembri che c'è tanto lavoro non lo so non lo so comunque piove piove tutto il giorno temperatura massima 20 gradi si è anche abbassata di un grado la previsione della temperatura massima di oggi piove senza soluzioni di continuità da esso fino alle due pasta di notte anzi fino a domani perché anche domani piove da quanto abbiamo visto vediamo sì domani pioggia dovrebbe schiarire domani sera dopo le 8 8 e mezza 9 dopo le 9 di domani sera finalmente dovremmo avere un po' di tempo buono mercoledì nebbia invece foschia nebbia le cavallette giovedì invece abbiamo grandine neve tutto quello che volete possiamo avere no in realtà giovedì venerdì al momento da sole però come dicevo stiamo attenti perché non è detto non è così semplice fare ormai le previsioni soprattutto in una città come Milano qui anzi qui dicono che infatti sto guardando anche fuori dalla finestra si è abbassata anche la luce sembra buio mai fuori questo è quanto ragazzi l'ultima settimana non sarà per nulla semplice e so soprattutto che per voi non è l'ultima cioè l'ultima per noi ma non è l'ultima per tutti quanti quindi complicato lo so io non posso fare nient'altro che darvi della musica è l'unica cosa che posso fare Dua Lipa con Illusion 8 e 50 minuti qui su Cristel Radio e arrivano i whatsapp anche da Sergio che ci dice buon autunno anche a voi mi sa che si tratta di geo-ingegneria effettivamente qui ce n'è da pensare buon autunno anche a tutti voi insomma altro che primo lunedì d'estate qua veramente è l'ennesimo lunedì di ottobre e quindi ci riascoltiamo un po' di musica anzi so che siete tutti in ritardo e quindi mi raccomando adesso correte anzi corro Giorgia Maria Sara con corro 8 e 56 minuti leggo il whatsapp che è appena arrivato oggi primo lunedì di settembre riparte la nuova stagione di Good Morning Milano Fabio come sono andate le vacanze ahimè invece no è l'ultimo lunedì di Good Morning Milano nonostante sembri veramente il primo di settembre anzi a settembre c'era più bello c'era un tempo molto più bello quando abbiamo aperto a settembre di oggi oggi veramente è una roba secondo me ci sono potenti avanti tutta la settimana il problema è che poi è il mood è il mood sono le vibes cioè non è facile andare avanti avere il sole nel cuore essere spensierati come fai con sto tempo in più siamo stanchi da tutto un anno comunque perché non è che è l'inizio della stagione no siamo comunque alla fine siamo stanchi ma non puoi neanche così consolarti con un po' di sole un giro al parco in bicicletta niente niente oh poi siamo sempre bravi a lamentarci in realtà se ci pensate abbiamo fatto un'esterna qualche giorno fa e per fortuna niente anzi si era un bellissimo tempo siamo riusciti a farla perfettamente quindi insomma sono anche cose positive succedono non solo negative vero è che avevamo un'idea bellissima per questa settimana ma non possiamo farla perché piove volevamo andare in giro per la città ma niente piove ma le belle idee torneranno a settembre ve l'ho sicuro cioè comunque noi dobbiamo avanti fino a venerdì non è che fino a venerdì facciamo cose sbagliate anzi se volete partire dalla mattinata iniziare la mattinata nel migliore delle maniere siamo qui pronti dalle 7 alle 9 anche domani mattina sempre qua su Crystal Radio con Good Morning Milano buona giornata a tutti ciao ciao a domani ciao